Questo programma è offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università, Caseificio Gioia. Amici del Ruggito Nero Verde, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata, la quinta del format dedicato al Bitonto Calcio. Tanto tuono che piove, potremmo definirla così la puntata di questa sera, vado subito a presentare i miei ospiti, alla mia sinistra Claudio Maffei, match winner dell'ultima gara del Bitonto, vinta per 1-0 ieri sul campo del Matera, buonasera Claudio. Buonasera a voi. Alla mia destra è tornato a trovarci Mario Romano, graditissimo giornalista amico di Radio Doppio Zero, buonasera Mario. Buonasera, è sempre a vostra disposizione per ogni invito. In collegamento un altro Mario, parliamo di Mario Sicolo, direttore del giornale Dabitonto. Buonasera Mario. Ciao, un caro saluto a voi in studio e a tutti i fedelissimi Nero Verdi che ci seguono da ogni dove dell'Orbe Terracco e Multimediale non solo. E allora, a partirei proprio da te, sei d'accordo con questo titolo? Tanto tuono che piove? Chiaramente Claudio, noi ci aspettiamo che diluvio a questo punto perché, insomma, sì, effettivamente, quando tu usi questa espressione che sicuramente, voglio dire, deriva da una tradizione popolare, saggezza popolare, appunto, ci fa capire che è una riflessione sagace in quanto la squadra aveva sempre fatto bene. Io sottolineo il fatto che, eccezion fatta per quella parentesi, no, brindisina, la squadra ha sempre fatto il suo, i ragazzi hanno sempre sudato la maglia, che è espressione cara del mister, avevano sempre dato l'anima in campo. E quindi, prima o poi, si sapeva che sarebbe arrivato il risultato. E non deve essere, no, il fatto che il Matera non navighi in ottime acque, che ci fosse già un po' di contestazione sugli spalti al 21 settembre Franco Salerno, non deve assolutamente sminuire il valore di questa vittoria. Sei d'accordo Claudio con queste parole? Mancava soltanto la vittoria perché la prestazione c'era stata nelle partite precedenti? Certo, sono d'accordissimo con Mario. Io, prima della partita di ieri, ero sicuro che noi saremmo nati lì a Matera soprattutto per vincere, per fare la prestazione, però la prestazione non è più bastata, abbiamo visto. Ci arriva qualcosa in più per portare a casa la vittoria e tutti quanti abbiamo messo qualcosa in più e i tre punti sono arrivati per forza di cose. E allora andiamo a vedere proprio gli highlights nel servizio di Mario Sicolo della partita tra Matera e Bitonto, vinta dai Bitontini per 1-0. Prima o poi doveva succedere. Il cuore nero verde che mai ha smesso di battere con fierezza ha finalmente avuto la meglio sull'avversario di turno e sulla improvvida sventura. E' così arrivata la prima vittoria per il Bitonto di mister Valeriano Loseto che sbanca la città dei Sassi con merito nel recupero della quarta giornata, nonostante le diverse emergenze, e si schioda al fine dall'ultimo posto del girone H di Serie D. Il Matera di Antonio Finamore appare lezioso e infecondo nello sviluppo di una manovra troppo ruminata e di conseguenza finirà per essere aspramente contestato dai suoi sostenitori. Gli ospiti si presentano con un ardito 4-3-3, con Petrarca fra i pali, Gianfreda e Silletti a dirigere la Maggino Centrale, esterni Tangorre e l'umile fuoriclasse Chiaradia. In mezzo a menar le danze Clemente con la grinta del gladiatorino Mariani, davanti il trequartista Taurino a basculare tra le linee, Maffei a pungere e Moscelli Junior a fare a sportellate. I padroni di casa oppongono un solido 3-5-2 con Pozzerra in porta, Sgambati e Visente centrali, Bottalico saggio direttore d'orchestra, Giussi e Ferrara le due punte. Minuto 10, percussione dell'ex Gravina e destro di Clemente su scarico di Mariani, cuoio che sorvola l'incrocio. Alla mezza, Moscelli ci abatta di sinistro l'imbeccata astuta di Gianfreda. Quattro primi dopo, Muscatiello per Maffei che calcia sull'esterno. Prima frazione più bitontina che materana, per vero dire. Si riparte e dopo 120 secondi il gol che spacca il match. Il fantasista e il mancino fatato duettano sull'estrema sinistra. La difesa respinge, incornata calida di Silletti, Maffei controlla nel cordellare e Fredda Pozzerra, 0-1. All'undicesimo, Russo a giro su punizione dal limite, Petrarca sinarca felino e mette in corner. Al quarto d'ora, stessa scena sulla fascia, inzuccata di Silletti sul fondo. Manu crossa da destra al diciannovesimo e Giussi cicca da distanza ravvicinata. Tre minuti e, suppiazzato dalla tre quarti, Moscelli ci mette la testa, fuori misura. Poco dopo la mezza, parabola da fermo di Bottalico, spizzata di Demoleon sopra la traversa. Infine, il signor D'Andrea da Nocera inferiore zirla tre volte e sancisce così il successo che ridona il sorriso ai pugliesi e sprofonda nella depressione i Lucani. Rieccoci in studio. Mario Romano, ne abbiamo parlato anche prima dell'inizio della puntata. Una partita magari non bellissima, però alla fine quello che conta è la sostanza, sono i tre punti. Infatti, partita non bella, come dal punto di vista dei bitontini, perché le altre partite il bitonto ha giocato molto bene, però è stato poco concreto e punito anche da episodi. Si è visto sicuramente che il mister ci ha messo del suo, ha avuto del coraggio nel proporre da primo minuto giocatori alla prima esperienza in Serie D, come Moscelli, come anche Tangorre, l'ottima prestazione di Muscatiello, tutti under di ottimo valore. C'è poi la lucidità di Maffei che ha concretizzato ciò che altre volte, probabilmente per la non lucidità, aveva fallito. Però sicuramente è un bitonto ben messo in campo che già dall'inizio ha bloccato tutte le fonti di gioco del Matera. Sicuramente anche Matera è stato un po' sorpreso dall'atteggiamento, ma anche i giocatori hanno capito l'importanza di questa gara, perché si sono immedesimati in una squadra che deve lottare e deve salvarsi. Quindi ha giocato con la cazzima giusta per poter affrontare queste gare. Parliamo proprio del gol, perché lì l'attaccante deve esserci. Non è una cosa che capita tutti i giorni, avere quella palla lì, farsi trovare pronti, guardare anche la linea difensiva degli avversari e poi saperla mettere dentro. Beh sì, quando ho visto che la palla usciva fuori dall'aria, ho visto che Siletti stava andando a colpire di testa, ho detto magari faccio due o tre metri indietro e poi magari mi rimetto dietro la linea difensiva in modo che se magari dovesse arrivare lì la palla io sono in gioco. E così è stato e abbiamo insultato tutti, è stato un gol che ci ha dato... Di liberazione. Sì, di liberazione, mi hai detto bene. Ecco, un gol nato da una situazione di calcio d'angolo, credo provata in allenamento, lo scambio a due, perché anche poco dopo c'è stata una situazione che ha portato il Bitonto vicino al raddoppio. Quindi comunque gli schemi provati in allenamento poi vengono riportati e questo è importante. Certo, certo. Noi nella rifinitura proviamo sempre le palle inattive e sappiamo come muoverci in qualsiasi situazione. Abbiamo visto che loro mettevano solo un uomo lì e quindi siamo giocati il 2 contro 1 e ha avuto i suoi benefici. Mario Sicolo, prima con l'altro Mario, Mario Romano, abbiamo accennato alla mossa, probabilmente la mossa vincente di Valeriano Loseto, ovvero l'inserimento in attacco del giovane classe 2004 Moscelli. Secondo te è la mossa vincente quella, la mossa che magari ha tratto in inganno inizialmente il Matera? Sicuramente mister Loseto non ha alcuna difficoltà a scommettere sui giovani. Tra l'altro lui l'anno scorso ha fatto bene anche con la primavera del Bari. Infatti quando quest'estate gli chiedevo, ma quindi con i giovani bisognerà lavorare, visto che la stagione che si apprestava a vivere non era certamente di quelle esaltanti come le ultime di questi anni, e lui giustamente mi faceva notare come una cosa è allenare i ragazzi che fanno un torneo per ragazzi, e quindi persino la primavera, che comunque la primavera tra i professionisti è comunque da considerarsi un torneo di una certa levatura, piuttosto che allenare i ragazzi che devono essere già calciatori pronti. E quindi Valeriano li sta mettendo tutti dentro, prima faceva bene Mario a citarli tutti, Muscatiello, e in particolare giustamente si sottolineava anche Francesco Moscelli, che è ben altro calciatore rispetto al papà Fabio, che era più traccagnotto, era molto più tecnico ed era spesso e volentieri anche perfido nelle sue giocate. Francesco mi sembra uno pronto a specializzarsi in sportellate, si butta nelle mischie, è sempre lì pronto a fare spazio per i compagni che si dovrebbero poi inserire dalle fasce poi al centro. E tra l'altro credo che si completi alla perfezione, proprio con l'ospite che abbiamo in studio, che invece è magari anche più abile a allargarsi e quindi a fare anche un gioco sulle fasce, per poi egli stesso anche accentrarsi o fornire palloni utili ai compagni. E chiudo soltanto riferendomi proprio a quello che si diceva prima sugli schemi provati in allenamento e in rifinitura, altro elemento che ha voluto sottolineare il tecnico, e poi il fatto di quel duetto sull'angolo, sull'estrema tra Chiara Dia e Taurino, che oggi usa sempre battere gli angoli in quel modo, i corner, e molte volte l'altro che va sul corner va solo a far la finta e poi rientra, forse per mandare fuori tempo la difesa nello schierato. Quando in realtà nel momento in cui si fa duettare i giocatori, allora a quel punto davvero che la difesa rimane smarrita, come esattamente è successo con il Don Nostro, ha fatto bene Maffei a descrivere il suo gesto, il suo movimento, che è stato perfetto. Mario Romano, Mario Sicolo ha parlato di squadra giovane, in effetti è così quest'anno, magari rispetto agli anni precedenti, c'è questa differenza di gioventù, di inesperienza, però vista da un altro punto di vista, può essere una cosa positiva, perché c'è quello sprint in più, proprio quella gioventù, che può essere l'arma quest'anno del Bitonto. Sicuramente a confronto della scorsa stagione si corre di più, e questo è un aspetto importantissimo, perché vedere comunque ragazzi giovani che comunque escono per crampi, oppure che corrono, dobbiamo anche dimenticare Mariani, grande partita, insomma, a tutto campo, insomma, giocatori che comunque ritornano sempre, spirito di sacrificio, e appunto questo è un complesso di particolari che proprio ieri ha dato il frutto vincente, che probabilmente, insomma, doveva venire in altre occasioni, però quantomeno te l'aspetti, e sono arrivati tre punti importantissimi su un campo difficile, perché, insomma, anche se il Matera contro il Bitonto non ha mostrato, insomma, le sue potenzialità, però è una squadra che comunque bisogna rispettare, andando a giocare, insomma, in casa sua, e il Bitonto è stato molto, molto bravo nell'approfittare e portare a casa tre punti che valgono oro, se non, insomma, il doppio, sempre in funzione delle prossime gare. Claudio, tu hai fatto anche tanta Serie C, ieri hai vinto anche il Premio Nallieri di Migliori in Campo, volevo chiederti come ti trovi in questa realtà di Bitonto e soprattutto come ti trovi con Mister Loseto, che peraltro penso tu conosca abbastanza bene. Beh, inizialmente avevo voglia di venire in Serie D, sono sincero, perché anche gli anni passati quando giocavo in C andavo sempre a controllare i risultati, mi informavo della Serie D, perché tutti mi dicevano sempre che il girone H, il girone H, il girone H era il migliore, c'erano giocatori forti, le tifoserie, le piazze, ero affascinato da questo girone, sinceramente. Poi, appena mi si è presentata la possibilità di venire a Bitonto, il Mister Loseto mi ha chiamato, io non ci ho pensato due volte, perché sono molto legato a lui, perché l'ho già avuto in passato ad Andrea, è stata la mia miglior stagione, e quindi appena ho visto la sua chiamata non ci ho pensato due volte. Poi col gruppo mi trovo benissimo, anche con i tifosi, sono sempre stati vicini a noi e sono sicuro che lo saranno sempre fino alla fine. E questa per noi è una certezza incredibile. Ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, soprattutto tu che appunto hai avuto esperienze importanti anche in Serie C. Ti sembra questo girone H sempre più simile ad una magari C2? Beh, sinceramente sì, perché nel nostro girone H scambio non ci sono squadre materasso, nel senso che ogni partita è dura, ogni partita si può decidere da un momento all'altro, non c'è quella partita che magari dice ok, tanto oggi perdono, non c'è una squadra di così diverso valore, sono tutte squadre attrezzate e alla fine le partite si giocano e chi ha più voglia, chi ha più fame, chi ha più rabbia e anche più a qualità molte volte vince. Andiamo a sentire adesso le parole di Valeriano Loseto nel post partita della gara giocata ieri a Matera. È venuta fuori la partita che abbiamo cercato perché l'avevamo preparata bene, sapevamo che potevamo farmare a Matera con Leo Taurino tra le linee, ci siamo riusciti e poi siamo stati anche giustamente premiati finalmente con un pizzico di buona sorte sul gol di Maffei e siamo riusciti a portare in porto questa grande vittoria con tutto noi stessi perché ci siamo mossi alla grande anche in fase di non possesso, non abbiamo concesso al Matera di esprimersi e quindi questa vittoria credo che sia più che meritata. Le assenze sono importanti fino a un certo punto, quando l'arbitro fisco ha la possibilità di giocare deve dare la dimostrazione all'allenatore che ci si può contare su di loro. I miei oggi ce l'hanno fatta ma noi lo facciamo sempre, solo che oggi siamo stati più che fortunati abbiamo ricercato la vittoria con grande intensità, grande determinazione e alla fine è arrivata. Io devo guardare in casa mia, del Matera interessa poco, io sono sicuro del fatto che noi abbiamo fatto una grandissima prestazione sotto l'aspetto dell'intensità, ci siamo mossi alla grande nella fase di non possesso, abbiamo chiuso qualsiasi varco, non ricordo un tiro in porto del primo tempo del Matera se non la punizione nel secondo dove c'è stato il colpo di testa di Demoleon, dove una palla messa in mezzo su un piazzato si può anche subire. Però ripeto, noi ci abbiamo creduto, avevamo quella determinazione, ci abbiamo creduto e siamo riusciti, come stiamo dicendo, un paio di minuti da qualche tempo che credo tutto sommato la vittoria sia più che meritata. Diciamo che oggi noi abbiamo fatto quella prestazione concreta, una prestazione di concretezza, era quello che sinceramente mi ero anche un po' stufato del raccogliere complimenti in ogni dove, ritornare a casa senza nessun punto. sembrava di essere ritornato un po' al passato di qualche mia esperienza in Lega Pro che ho vissuto qualche tempo fa dove si giocava alla grande però non si conquistavano punti se non pareggi. Oggi siamo riusciti a centrare una vittoria in un campo importante, in un campo difficile perché comunque alla fine credo che il Matera in casa non aveva mai perso. Subito smentito. Però in casa aveva sempre fornito prestazioni positive. A me inorgoglisce la prestazione dei miei perché contro una diretta concorrente perché poi alla fine siamo due squadre giovani, due squadre che hanno un cammino molto lungo nel centrare la salvezza che non arriva sicuramente nel mese di novembre o dicembre ma arriverà sicuramente più là. Ripeto, rimane l'orgoglio di aver vinto qui a Matera con dei ragazzi che hanno come hai detto te meravigliato per quella che è stata la loro prestazione. Moscatiero non giocava da tre partite. Moscelli l'avevo buttato dentro gli ultimi 20 minuti domenica scorsa e oggi ha fatto una prestazione eccezionale come ha fatto una prestazione eccezionale lo stesso Tangoro. Ma tutto il gruppo là dietro soprattutto sono stati bravi nel leggere qualsiasi situazione difensiva a centrocampo nel raddoppiare e davanti breve ripartire quindi bisogna fare oggi e finisce oggi bisogna fare un plosso ai ragazzi. Bisogna giocare sempre con l'idea di fare i tre punti di poter riuscire a centrare la vittoria piena ma non è importante che arriva domenica a Bitonto l'importante è che noi riusciamo ad esprimerci su questi livelli senza tener conto di chi possa scendere in campo dall'inizio io dispongo di 24-25 giocatori che credo siano sullo stesso livello qualcuno anche più esperienza di qualche altro è ora che la inizia a mettere a disposizione di tutti noi e poi io credo che con questa determinazione con questa voglia con questa mentalità cercheremo di centrare quanto prima quello che è il nostro obiettivo Mario Sicolo che dici? Un l'oseto più tranquillo più sereno finalmente? Beh sicuramente non poteva non riconquistare la serenità Valeriano anche perché ripeto è stata una vittoria meritata poi soprattutto no gli aspetti tattici che lui stesso è andato a sottolineare forse no Bitonto aveva solo due punti era fanalino di coda prima della partita di mercoledì però se ci pensiamo ripeto tranne la parentesi Brindisina che probabilmente fu vittima anche dello shock dell'infortunio di Lucchese il sabato precedente secondo me credo che sia andata così ma pensiamoci cioè i portieri del Bitonto non fanno 5, 6, 7 interventi miracolosi a partita bisogna riflettere anche su questo infatti lui sottolineava come abbiano ben fatto tutti coloro che hanno irrobustito il reparto arretrato e non solo anche a centrocampo e poi sottolineo la bellezza degli abbracci a fine partita perché è stata fondamentale ripeto purtroppo quelle immagini stridevano con la contestazione ai materani e fa sempre male onestamente vedere una squadra che viene contestata perché non si può dire che gli undici biancazzurri fossero entrati in campo quasi renitenti alla fatica calcistica su questo non ci piove però era bellissimo l'abbraccio anche con i tifosi quella trentina di neroverdi che hanno raggiunto lo stadio materano per sostenere i loro giocatori ed è stato veramente un abbraccio ideale ma profondo segnante incisivo tant'è che la cosa bella è che io alla fine di questo rito che si tiene in questo abbraccio ideale con i tifosi di questo unirsi in un destino comune verso il quale tutti quanti devono marciare nella stessa direzione cercavo appunto il mister e il mister è stato l'ultimo ad abbandonare i tifosi è stata una cosa bellissima ed era abbracciato al presidente Antonello Orlino e poi ovviamente raggiunti anche da Leonardo Rubini ecco questo è il bitonto è inutile girarci intorno solo i risultati erano mancati finora questa è l'anima del leone nero verde Mario ha sottolineato una cosa importante l'unità del gruppo che forse quest'anno come non mai con un gruppo così giovane deve essere la chiave di questo campionato una società che va che rema tutta nella stessa direzione e avere alle spalle anche una piazza che ci crede sono d'accordissimo con Mario con le parole di Mario sono d'accordissimo più che una società sembra una famiglia qui eravamo tutti quanti dalla stessa parte tutti quanti abbiamo un obiettivo che sappiamo di dover raggiungere tutti quanti sappiamo che dobbiamo dare il massimo se non basta il 100% dobbiamo dare il 200% affinché raggiungiamo il nostro obiettivo noi pensiamo tutti i giorni alla salvezza a raggiungerla quanto prima in ogni allenamento in ogni partita non mancherà mai la rabbia la grinta e la voglia di raggiungere quell'obiettivo Mario Romano torniamo un attimo alle parole di Roseto lui ha parlato anche di solidità difensiva finalmente il Bitonto non ha preso gol e poi i risultati si sono visti è arrivata la zampata di Maffei e l'1-0 portato a casa sicuramente anche l'assenza di Modiglio dall'inizio insomma poteva essere come tangoro insomma però è frutto della preparazione della gara degli allenamenti dove sicuramente i ragazzi si impegnano non al 100% ma bensì al 200% quindi può fare affidamento su tutti su tutti i ragazzi a disposizione quindi lui è quello che mister è quello che vede in settimana i migliori undici da poter schierare con coraggio ripeto uso questa parola coraggio perché insomma non tutti non tutti gli allenatori insomma credono nei giovani ma non ma non nei giovani insomma nei più molto giovani insomma ripeto mettere dei 2004 in campo dall'inizio ci vuole ci vuole molto molto coraggio andiamo a vedere adesso la classifica giornata del Girone H dopo il recupero di ieri tra Matera e Bitonto con il Bitonto che sale finalmente direi a quota 5 punti e si stacca dalle ultime posizioni della classifica comandata dal Brindisi insieme al Casarano e al Fasano a quota 14 poi segue la Cavese a 13 Barletta 12 11 punti per la Fragolese 10 per il Nardò e per il Gladiator poi Team Altamura a quota 8 a 6 Nocerina e Martina poi appunto il Bitonto assieme al Gravina Matera e Lavello a quota 4 3 per Molfetta e Puteolana ferma ancora a quota 2 punti il Francavilla in Sini commentiamo un attimo questa classifica che ci dice che lì davanti vanno Brindisi Casarano e Fasano oltre ovviamente alla Cavese e il Barletta che ha avuto la prima battuta d'arresto e nella parte bassa invece ci dice che c'è un Bitonto che finalmente comincia a rialzarsi 3 punti che insomma hanno ridato l'infa insomma non solo all'ambiente ma anche alla classifica insomma adesso già una classifica diversa un bel vedere adesso l'obiettivo sarà quello di passare dalla parte la parte sinistra insomma però prossimo avversario ti anticipo insomma la Puteolana comunque è una squadra una squadra tosta la Puteolana ci sono volevo giusto sottolineare tre trex ci saranno ovvero Ciro Amelio e ad Aresta il neoacquisto e dimentico c'era c'è anche c'è 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 un altro ah è Francesco Esposito che aveva lanciato appunto Mister Loseto nella 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 nata a Bitonto insomma una squadra che comunque ha elementi come Letizia ha a centrocampo insomma elementi di di qualità Catinali Guaraccino insomma una squadra molto molto che ha speso molto più del del Bitonto è una squadra da prendere sicuramente con le molle però sulle ali di questa di questa vittoria sicuramente Bitonto saprà insomma dare continuità ai risultati insomma la classifica si muove adesso l'obiettivo è secondo te come dice Mario Romano portare il Bitonto dalla parte sinistra della classifica a partire già da lunedì beh bisogna pensare sempre a partita per partita non bisogna pensare già al futuro bisogna pensare ora c'è la Putolana poi c'erano altre squadre sicuramente sappiamo di affrontare una squadra che come noi fino a due giorni fa si vuole rialzare quindi noi dobbiamo riprendere dall'entusiasmo che avevamo avuto ieri però volare sempre basso e avere sempre un profilo basso perché noi eravamo scarsi prima non siamo un fenomeno adesso quindi dobbiamo solamente credere alle nostre qualità fare quello che il mister ci dice di fare e entrare in campo con la voglia di vincere allora andiamo a vedere il quadro completo della prossima giornata il settimo turno del girone H di Serie D che parte domenica tutte alle ore 15 Casarano contro Afragolese poi Cavese Fasano Gravina Barletta Francavilla Matera Gladiator Nardò Lavello Molfetta Martina Tim Altamura Nocerina Brindisi e poi il posticipo tra Bitonto e Puteolana sempre alle ore 15 Mario Sicolo ti piace questa giornata qual è la partita diciamo in generale che ti piace di più dai come si diceva prima in un campionato così livellato verso l'alto praticamente ogni domenica ogni giornata ci sono big match abbiamo visto quello del Casarano ma anche Lavello Molfetta con tante squadre che sarebbero motivate avrebbero tante motivazioni visto che comunque anche se si va delineando la fissione economia del campionato e soprattutto la classifica però grossomodo le squadre sono ancora in cerca anche di rivalza di riscatto e tra l'altro volevo sottolineare questo aspetto che molte volte la Puteolana non dico che è stata una bestia nera del Bitonto ma quasi visto che alcune volte ha firmato dei colpi gobbi anche al Città degli Ulivi e che spesso hanno segnato la sorte di un'intera stagione quindi effettivamente bisogna stare molto attenti anche a questo match e poi c'è da dire anche questo vista la classifica che avete letto prima notate dove sono le squadre che finora ha affrontato il Bitonto perché anche questo bisogna sottolineare il calendario è stato del tutto inclemente finora e effettivamente se noi vediamo a Fragolesi la stessa Team Altamure che ha otto punti noi abbiamo visto prima cioè sono tutte squadre che avevano più punti del Bitonto che sicuramente sono più papabili per un'eventuale promozione in Serie C rispetto alla nostra squadra che come tutti ben sappiamo deve vivere di ambizioni rimpicciolite Mario Romano siamo quasi in chiusura anche con te un commento su questa giornata spicca magari Cavese-Fasano che dici? Sì Fasano assolutamente una sorpresa come avevo già anticipato l'altra trasmissione insomma ma secondo me Casarano-Fragolese è la gara più interessante perché la Fragolese si sta riprendendo e Casarano insomma dopo la vittoria di Altamura insomma va a mille insomma c'è il morale a mille sarà una partita molto molto interessante Ultima battuta con te lì davanti siete in tanti diciamo così anche i nomi abbastanza importanti perché c'è Palazzo c'è Figliolia anche se infortunato insomma com'è il rapporto tra di voi vi sostenete a vicenda immagino? Certo tra noi c'è neanche competizione sana competizione noi siamo contenti se fa gol il nostro compagno ci arriviamo bene settimanalmente questa sana competizione appunto siamo tutti amici e come dicevo prima il nostro obiettivo non è chi fa più gol ma il nostro obiettivo è arrivare a marzo che siamo tranquilli qual è la cosa più importante? Noi ti ringraziamo per essere stato con noi bocca al lupo grazie a Claudio Maffei grazie anche a Mario Romano grazie a voi grazie a Mario Sicolo grazie a voi un saluto un saluto un saluto l'ultimo ringraziamento va a voi per averci seguito noi ci ritroviamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Rugito Nero Verde questo programma è stato offerto da John Cage Center Bitonto e Campus Università Caseificio Gioia Grazie a tutti